Nel 1941 ci arrivò il telegramma di morte di Mario, di mio fratello, quello della Grecia. E l'altro fratello, dall'Albania, senza passare da casa, fu mandato in Ucraina, in Russia. L'altro fratello è stato richiamato ed è stato mandato a Mentone, in Francia, quando siamo andati a conquistare. Eravamo rimasti a casa, un fratello, quello il perseguitato politico, che quello non l'hanno richiamato. L'altro fratello più giovane, perché non era ancora maggiorenne, dei bambini e delle donne. Avevamo 70 biolche di terra da lavorare. E le donne, noi donne, abbiamo incominciato a sentirci, anche se la legge non ce lo riconosceva, eravamo diventate le capofamiglie. Lì si doveva inventare, capire come si doveva fare per coltivare la terra. E molte altre donne, anche lì delle vicine di casa, avevano incominciato ad andare a lavorare in fabbrica. C'era l'industria bellica e gli uomini erano al fronte. Dovete immaginare, gli uomini al fronte e le donne a casa a cudire i bambini e a tirare avanti la famiglia. Perché noi esultammo in modo incredibile. Ci sembrava di rinascere. Però, infatti, noi, io mi ricordo che prendemmo, io e due o tre amiche, quelle della foto, prendemmo una vecchia bandiera, non so come l'avevamo rimediata, perché questo proprio non me lo ricordo. So solo che partemmo in bicicletta. Io e le mie due amiche, io davanti, le mie due amiche ai lati e cominciamo un corteo lungo le stradine di campagna. La gente era tutta fuori dalle case, quindi il corteo si ingrandiva sempre di più, diventava sempre più numerosi. Abbiamo fatto, dunque, c'erano da Castelazzo a Reggio, c'era circa 7-8 chilometri. Quindi tutti in bicicletta, tutti giovani, giovanissimi, perché gli altri erano militari, erano... E quindi arrivamo a Reggio, un po' dappertutto. C'erano le scritte di Mussolini, credere, obbedire, combattere, il solco traccia... No, l'arato traccia il solco e la spada lo difende. E questo era scritto un po' dappertutto. Loro i ragazzi su per le scale, con della vernice improvvisata, non so come, a cancellare queste cose. Dove c'erano le insegne, non so, i farsi o i busti del duce, cercavano di tirarli giù. Insomma, c'era veramente una gran confusione. Però, man mano che passavano i giorni, la situazione diventava sempre un po' più complicata, perché il re c'era ancora. E poi arrivò l'8 settembre. L'8 settembre... Mi ricordo ancora che sentimmo... No, la radio no, perché nessuno aveva la radio. Però le notizie, come dicevo prima, circolavano sulle ruote delle biciclette. Ma erano rapidissime. Cioè, infatti, io ricordo, l'8 settembre era verso sera. E che dopo un'ora, credo, che tutto quanto il paese sapeva che c'era stato firmato l'armistizio. Il giorno dopo cominciamo a vedere dei soldati sbandati nelle campagne e che venivano a casa. Le donne, e io anche in particolare, perché io avevo poi già una certa cognizione dell'antifascismo, quindi fui fra le prime andare presso alle famiglie lì nei dintorni di pregarli di ospitare e vestire questi giovani che erano alla sbaraglia. Perché il re era scappato, l'esercito era in mano oramai di nessuno. E poi ci fu questa entrata, ci fu l'occupazione direttamente alla notte stessa, il giorno dopo, dei tedeschi.